Io credo a due grandissime squadre, due grandi società che purtroppo lasciano un segno negativo sul calcio italiano. Non è così, è bene che si parli perché il calcio è così, ci sono diverse decisioni che si può discutere, si deve analizzare. Comunque non arrivarci al punto in cui si arriva perché secondo me il calcio italiano non merita quello. Secondo me sì, è un giocatore che è entrato in una società, in un club che le esigenze sono alte per si stesso, anche perché le sue caratteristiche, le sue qualità e anche il suo contratto, il suo accordo, le sue aspettative sono sempre grandi e per questo è normale che loro si aspettino tantissimo di lui. Comunque sono ancora nell'inizio dove deve avere un'integrazione, una filosofia nel gioco di Roger e anche di capire anche il suo collega di forma più prima e sin meglio.